Ancora 10 secondi. Ancora 5 secondi. Il nemico ha trovato una bomba. Prepararsi all'ingaggio. Ricarico, sopra il... Ricarico. Porta è barricata! Sì. È tutto per lui. Granati! Sì. È tutto per lui. Gli hanno scoperto. Torna indietro. Ultimo attaccante rimasto in vita. La tua posizione è stata compromessa. Adesso gli incasino i meridiani. Ricarico! Copritemi! Ricarico! Copritemi! Ricarico! Ti hanno visto! Vittoria alla difesa! Nemici eliminati! Tu? No. No. Non. Il sorbeto! Difendete l'area e proteggete le bombe La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Proteggetela. Siamo a 10 secondi. Mancano 5 secondi. Siamo a 10 secondi. Siamo a 10 secondi. Non mi renderò le cose facili. Use il colpo d'occhio! Siamo a 10 secondi. Ultimo attaccante rimasto in vita. Siamo protetti. Barrile, non si è nota. Siamo coperti. Un operatore alleato rimasto. I difensori hanno eliminato tutti i nemici. Un operatore rimasto in vita. Un operatore rimasto in vita. Dobbiamo individuare una bomba. 10 secondi all'inserimento. 5 secondi. Attenzione, il drone è alleato. Ho trovato una bomba. Raggiungete la bomba e disinnescatela. Occhi aperti per il nemico. Devo ricaricare. Alla larga! Vi faccio vedere dove sono. Cambio caricatore! Hai perso il disinnescatore. Resta solo un operatore d'attacco. Resta solo un operatore. Attaccante neutralizzato. Attaccante neutralizzato. Attaccante neutralizzato. Dovete usare il drone per trovare una bomba. Il drone alleato ha trovato una bomba. Ancora 10 secondi. 5 secondi. Raggiungete la bomba e disinnescatela. Occhi aperti per il nemico. Ch Entscheidung. Dovete. Sì 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 Brune pronto Mina Claymore pronta Devo cambiare caricatore Fughi partito Zito Fughi via Scudo differente pronto Rimane un nemico Disinnescatore online è attivo Ricarico Copritemi Pugno d'aria pronto Il mio dispositivo è pronto Resta solo un operatore d'attacco Difensori neutralizzati Vittoria per gli attaccanti Sì 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 Sì